Permettimi di darti un consiglio, sii sincero, lui sa più di quanto tu immagini. Ti do il benvenuto Gino, io sono l'oste. È un onore. Tu conosci la verità Gino? La sto cercando da tutta la vita. Ora ti dico perché sei qui. Sei qui perché ogni volta che assapori il tuo vino, intuisci che c'è qualcosa che non riesce a spiegarti, senti solo che c'è. Come un tannino troppo metallico. Sai di che cosa sto parlando Gino? Vino Matrix. Ti interessa sapere cos'è? Non chiedo di meglio. Bene. Vino Matrix è il mondo reale. Tutto quello che vedi in questa stanza, in questo momento semplicemente non esiste. è solo una prigione per la tua mente. Purtroppo nessuno può spiegare Gino Matrix agli altri. Devi scoprirlo con i tuoi occhi. Pillola champagne. Fine della storia. Domani mattina ti sveglierai nel tuo letto sotto l'effetto delle bollicine. e non ricorderai più nulla. Pillola amarone. Scegli la verità. e scoprirai un mondo che non hai mai nemmeno potuto immaginare. Ricorda che ti sto offrendo la verità. ! Dove sono tutti? Il mio vino. Benvenuto nell'anno 2124, Gino. Questo è il mondo reale? Non è possibile. Circa un secolo fa, le autorità sanitarie giudicarono il vino tossico e lo bandirono. Oggi non c'è più vino, non ci sono più vini. E la parola enoteca è stata cancellata dal vocabolario. Ma com'è possibile vivere così? Ma per fortuna c'è vino o magnus che può farci rivivere l'esperienza del vino. Quella perduta. Serviti pure. Questo è un Bordeaux del 1969. Lascialo sciogliere in bocca, lentamente. Dai tempo. Dai tempo. Dai tempo. Dai tempo. Gino! Gino! Sveglia ti! Sveglia ti! Sveglia ti! Sveglia ti! Sveglia ti! Sveglia ti! Bene! Bene. Adesso anche io, grazie a voi conosco la verità. La verità? Quella che sienta delle grandi, fenomeni, gigantesche, besterine! Grazie per la visione!